Questa volta la soglia del voto era inferiore. Le tre variazioni di bilancio più urgenti per lo Youth Center, per Gela Digitale, per il Polo della Cultura di Largo San Biagio con la biblioteca sono state approvate. Progreco e responsabili, seppur non tutti sulla stessa linea, hanno garantito il sì e comunque hanno mantenuto il numero legale, che invece ieri era venuto meno da subito. Il consigliere comunale del gruppo civico Una Buona Idea, Davide Sincero, ha spiegato di prendere atto che un'intera classe politica di opposizione era assente. Secondo Sincero, la città capirà anche questo. Il consigliere si riferiva ai banchi vuoti del centro-destra. In aula c'erano alcuni giovani che hanno mostrato cartelli con i quali chiedono la biblioteca fruibile. Di fatto le variazioni approvate garantiscono i progetti ed evitano un danno erariale. Se non fossero passate sarebbe stato necessario restituire i finanziamenti ricevuti con tutte le conseguenze del caso. Se le variazioni di bilancio più urgenti per i progetti sono state approvate in aula consigliare, lo stesso non è valso per i primi adempimenti legati al dissesto dell'ente comunale. Bisognerà infatti attendere per la rideterminazione delle aliquote IMU. Il segretario generale Carolina Ferro ha voluto precisare che nell'eventualità di una mancata approvazione il ministero bloccherà ogni tipo di trasferimento, così come previsto dalla disciplina in materia, assai scettici sul provvedimento. I civici di una buona idea. Il capogruppo Davide Sincero ha fatto rilevare che con la rideterminazione che ha già regolarizzato la sua posizione dovrà versare una quota superiore, trovandosi praticamente ancora in debito con Palazzo di Città. Dall'altro lato ha sottolineato che non c'è stato alcun miglioramento nei controlli e nella riscossione per chi non è in regola. Più in generale i pochi consiglieri presenti hanno mostrato perplessità. Il sindaco Lucio Greco ha ribadito che, si tratta di adempimenti disposti dalla legge. Non si tratta infatti di atti dell'amministrazione, lo stesso vale per le variazioni sui progetti, ha spiegato il sindaco. Servono invece a garantire l'ente e la città, ha detto inoltre. Si è congratulato soprattutto con i consiglieri presenti. Il numero legale è però poi mancato e si dovrà andare a nuova convocazione.